Si parli anche di sostenibilità delle imprese. A Roma la due giorni dell'Assemblea Generale di Confagricoltura aperta dall'intervento del Presidente Gian Santi, coro unanime anche da parte dei vertici calabresi dell'Associazione. Stati, ci sono sicuramente delle emergenze in corso. Penso ad esempio a quella legata al costo del denaro e quindi all'accesso al credito. Una moderna impresa agricola per lo sviluppo del Paese. Il Presidente di Confagricoltura Gian Santi all'Assemblea della Confederazione chiediamo di produrre di più preservando le risorse naturali. Il Ministro Urso garantire l'autonomia e la sovranità dell'Europa nell'alimentazione. Arrestato in Francia il latitante Michele Bellocco, l'uomo è stato fermato nella stazione di Lione. Le indagini erano state avviate dai carabinieri di Gioia Tauro nel 2021, quando Bellocco si era arbitrariamente sottratto alla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Lavori sulla trasversale delle serre dipendenti ANAS a giudizio. Danno erariale di 18,5 milioni di euro. Ai tecnici viene imputata l'omessa adozione di iniziative anche di vigilanza e di controllo sulla corretta esecuzione dell'opera, nonché la lievitazione dei costi di realizzazione. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV. In apertura l'Assemblea Generale di Confagricoltura a Roma aperta dalla relazione della Presidente Massimiliano Gianzanti che ha snocciolato numeri e dati del settore agroalimentare in Italia. Il più importante del nostro paese per numero di occupati, valore della produzione e valore aggiunto alla due giorni romana presenti anche i vertici calabresi dell'Associazione. Sentiamo. Assemblea Generale di Confagricoltura a Roma nella capitale, nel palazzo della Cancelleria, una due giorni che consentirà di fare il punto sul mondo agricolo con ovviamente sul tavolo tanti temi a partire dalle emergenze con i tassi alle stelle, l'inflazione, il costo delle materie prime e le imprese sempre più in ginocchio. Urgono ovviamente gli aiuti da parte dello Stato e in questi due giorni ci sarà modo di dibattere, di discutere di questi temi anche con esponenti del Governo. Sono previste la presenza, le presenze di Ministri e sottosegretari e ovviamente anche quella del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Una Assemblea Generale che si è aperta con la relazione del Presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti che ha più volte sottolineato nel suo lungo discorso il valore dell'agricoltore che è riuscito con resilienza a resistere alle tante catastrofi, alle tante emergenze di questi anni. Presenti anche Alberto Statti, Presidente di Confagricoltura Calabria che ha puntato l'attenzione soprattutto sulla sostenibilità, delle imprese e dall'altra parte Nicola Cilento, membro della Giunta di Confagricoltura che invece ha sottolineato anche la necessità di porre l'attenzione sulla sostenibilità energetica ed ambientale. Noi li abbiamo intercettati e li ascoltiamo. Ci sono sicuramente delle emergenze in corso. Oggi paradossalmente è una delle più pesanti legate al costo del denaro, quindi l'accesso al credito che rischia di mettere in ginocchio un'intera economia. Noi è da tempo che rappresentiamo queste difficoltà, abbiamo anche insistito nei mesi precedenti affinché si portasse avanti una legge di ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole. Oggi abbiamo il problema del costo del denaro che ha raggiunto livelli insopportabili e che rischia di mettere in ginocchio le imprese compromettendo tutti gli sforzi che sono stati compiuti in questi anni difficili. Ci ritroviamo anche quest'anno in emergenza, come diceva lei. L'inflazione e l'aumento dei tassi bancari sono le due questioni che di più preoccupano con faricoltura perché di più affliggono le imprese agricole italiane. C'è necessità di più ricerca e più scienza applicata al nostro settore perché riteniamo che solo con innovazione tecnologica, ricerca scientifica e tecnologie nuove nel nostro settore si possa far fronte a quello che io dicevo poc'anzi, quindi a produrre più cibo con meno risorse nel rispetto dell'ambiente. Il presidente Gian Santi ha posto l'accento sulla necessità di aumentare la produzione italiana preservando però le risorse naturali. Lo ascoltiamo. Noi agricoltori che cosa stiamo chiedendo da anni? Di produrre di più che è quello che ci chiedono i consumatori europei, preservando le risorse naturali. È evidente che se in Europa viene deciso di diminuire la capacità produttiva del 10%, quella parte di produzione che non avremo più in Europa sarà importata da altre parti del mondo. E saremo certi che questi prodotti che arriveranno da altre parti del mondo avranno gli stessi standard di sanità, di salute che oggi l'Europa garantisce. Perché va detto con chiarezza che il settore dell'agricoltura italiana ed europea è un settore che è cresciuto molto in questi anni, che ha garantito e garantisce tutt'oggi i più alti standard di sicurezza alimentare. Siamo ancora un po' nella difficoltà di garantire l'autosufficienza in Europa delle nostre produzioni primarie. Quindi anziché lavorare per garantire a tutti i cittadini europei quella necessaria produzione di qualità, oggi l'Europa ha voluto in qualche modo prendere una decisione che ci allontana un pochino da quelli che sono a mio avviso i desiderata dei nostri consumatori. All'iniziativa ha partecipato anche il Ministro per le imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso che ha invece sottolineato la necessità di garantire l'autonomia e la sovranità dell'Europa nell'alimentazione. Ci sono stati due voti importanti. Uno nel Parlamento italiano in cui è stato riconosciuto il ruolo sociale dell'agricoltore nella tutela del territorio. Tutti ne siamo consapevoli dopo le recenti alluvioni che hanno colpito alcune regioni, anche agricoli italiani. E l'altro nel Parlamento europeo in cui si è presteso di ripristinare la natura con il voto politico del Parlamento, secondo una logica ormai passata, superata, che contrasta con la realtà. Perché l'alimentazione è diventata fondamentale, ce ne rendiamo conto tutti, dopo quello che è accaduto con la pandemia in cui sono mancati dei beni alimentari e dopo quello che è accaduto con l'invasione della Russia in Ucraina in cui persino il grano è diventato un elemento della guerra ibrida contro l'Europa. E quindi ci pare davvero, come dire, irragionevole il fatto che si pretenda di ridurre il territorio agricolo dei nostri paesi mentre dobbiamo garantire l'autonomia, l'assomalità dell'Europa anche nell'alimentazione. E quindi la cronaca, c'è un neonato morto fra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nella porto di Reggio Calabria a bordo della nave d'attilo della guardia costiera. Il bimbo si trovava con la madre per la quale la prefettura ha chiesto immediatamente l'assistenza psicologica. Non si conoscono al momento altri dettagli sulle cause del decesso ma solo che la donna e il bambino facevano parte della gruppo di migranti non provenienti da Lampedusa ma soccorsi in mare. La polizia di Stato che sta eseguendo i controlli ha avvertito l'autorità giudiziaria che molto probabilmente sequestrerà la salma e disporrà l'autopsia. La nave d'attilo della guardia costiera era arrivata a Reggio Calabria con a bordo complessivamente 800 migranti. Tra di loro ce n'erano appunto 50 soccorsi in mare nelle ultime ore mentre tutti gli altri erano partiti dall'hotspot di Lampedusa. Ancora cronaca, arrestato in Francia il latitante Michele Bellocco era sfuggito agli arresti domiciliari nel 2021. Sentiamo. E' durata poco più di due anni la latitanza di Michele Bellocco classe 96 originario di Rosarno. Il giovane è stato arrestato in Francia in una stazione di Lione. Le indagini condotte dalla compagnia dei carabinieri di Gioia Tauro con l'aiuto dello squadrone riportato Cacciatori Calabria erano partite dal novembre 2021 quando Bellocco era evaso dai domiciliari. Michele Bellocco deve scontare una pena pari a 8 anni e 4 mesi di reclusione per la condanna definitiva per vari reati contro la persona e il patrimonio, in particolare per la violazione della normativa in materia di armi, rapina, calugna, resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e furto, tutti i reati commessi a Catanzaro e nella provincia di Reggio Calabria dalla 2014 al 2017. I carabinieri sotto il costante coordinamento della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria non avevano mai interrotto le ricerche di Michele Bellocco e in particolare divenute più stringenti negli ultimi mesi con l'internazionalizzazione del provvedimento di cattura. Al momento sono in corso le procedure per l'estradizione di Bellocco che al rientro in Italia sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria regina per scontare la pena definitiva. E' stato condannato all'ergastolo franco-abruzzese detto Dentuzzo, il boss di Cassano all'Oionio nella Cosentino. La condanna per il capo del clan degli Zingari è arrivato in corte ed assise d'appello alla Tribunale di Catanzaro. La pena inflitta ad abruzzese già costretto al carcere a vita riguarda gli omicidi avvenuti a Cassano all'Oionio nel gennaio del 1999 di Giuseppe Cristaldi e Biaggio Nucerito. Insieme ad abruzzese è condannato anche Nicola Acri, boss di Rossano. Proprio le dichiarazioni di quest'ultimo, per lui 13 anni di reclusione, sono state fondamentali per ricostruire la vicenda. Omessa adozione di iniziative anche di vigilanza e di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori della trasversale delle serre, nonché la lievitazione dei costi di realizzazione dell'opera. Sono queste le accuse mosse nei confronti di quattro professionisti, tre dipendenti in servizio e un ex dipendente dell'ANAS a cui è stata notificata una citazione a giudizio. Quattro professionisti, tre dipendenti in servizio e un ex dipendente dell'ANAS, già responsabili unici del procedimento e direttore dei lavori dell'appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento della strada statale 182 trasversale delle serre nel tratto di 21 chilometri compreso tra i comuni di Argusto nel Catanzarese e Serra San Bruno nel Vibonese, sono stati raggiunti da un atto di citazione in giudizio emesso dalla Corte dei Conti e notificato dalla Guardia di Finanza di Catanzaro. Ai tecnici viene imputata l'omessa adozione di iniziative anche di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dell'opera, la lievitazione dei costi di realizzazione e un danno erariale di 18,5 milioni di euro. Gli interventi erano stati appaltati nel 2005 dall'ANAS a un'associazione temporanea di imprese del settore per l'importo di 123 milioni di euro e conclusione a gennaio 2008 e invece sono costati ad oggi 191 milioni di euro e sono stati ultimati ad aprile 2017 dopo 12 anni. Gli accertamenti hanno evidenziato la sussistenza di gravi lacune nel progetto iniziale, nonché nelle fasi esecutive di gestione dell'intervento da parte dell'impresa giudicataria. L'esito delle indagini ha evidenziato inoltre che la necessità di ricorrere alle varianti è stata in parte determinata dal bisogno di sopperire alle gravi carenze del progetto originale. Il rilancio di Apriliano all'altra politica, ospite dell'ultima puntata del nostro talk di approfondimento, il sindaco del centro cosentino Alessandro Porco che afferma abbiamo le risorse per farlo. È in corso un confronto con altri colleghi sindaci che potrebbe presto sfociare in una proposta politica coerente con l'esigenza di mettere al centro le difficoltà delle autonomie locali, spesso e volentieri tagliate fuori dal dibattito politico che conta. Sembra avere le idee chiare Alessandro Porco, sindaco di Apriliano e infatti lancia un messaggio che non mancherà certo di animare il confronto all'interno dei partiti. Ma Alessandro Porco dice anche altro, convinto com'è che la sua Apriliano abbia tutte le carte in regola per assurgere a ruolo di comune protagonista dell'entroterra. Il fenomeno di spopolamento non è che riguarda solo il mio comune, riguarda il Mezzogiorno d'Italia, abbiamo letto tutti la tendenza da quei 20 anni del Mezzogiorno d'Italia, quindi poteva essere un'occasione di rilancio reale. Abbiamo individuato alcuni cittadini che avevano queste case chiuse, che non venivano utilizzate e gli abbiamo detto mettete la disposizione dell'ente o meglio di chi vuole venire a soggiornare nel nostro comune, si fanno pacchetti o settimanali o di 15 giorni, vengono, tipo 3 anni fa mi ha chiamato una famiglia di Bologna, solo che erano 9 persone e non siamo riusciti a sistemarli. Il senso è questo, far venire persone non residenti nel nostro comune e noi poi andiamo a retribuire il proprietario con il canone d'affitto, che chiaramente è una cifra modica, però è una cifra che consente intanto magari a lui di pagare i tributi. È vero, dice sempre Alessandro Porco, le criticità ci sono, la vastità del territorio è tale che non è sempre semplice connettere le nostre frazioni, ma le opere su cui stiamo puntando valorizzeranno sicuramente le vie di comunicazione tra il paese ed il capoluogo di provincia. Per avere sviluppi del nostro territorio, che abbiamo suddiviso in tre grandi linee, lo sviluppo dell'altopiano lungo il lago, la riqualificazione dei centri storici e la strada di collegamento lungo il fiume Crati che ci porta sulla città di Cosenza in 4 minuti. Questi sono i tre macro progetti che ci danno una visione di insieme di quello che è il nostro territorio. Da un comune che punta a rilanciare il proprio sviluppo ad un altro che non riesce ad ottenere ciò per cui stava lottando tutto. L'iter avviato infatti dalla Regione Calabria per l'effettuazione del referendum per la secessione di Campora San Giovanni d'Amantea e la successiva fusione di Amantea con Serra D'Aiello per la nascita di Temesa è stato bocciato dal Tar della Calabria che ha accolto il ricorso della comune di Amantea, rappresentato dagli avvocati Andrea Reggio Daci e Mariella Tripicchio. Resta tutto invariato, quindi il divorzio fra Campora ed Amantea non si farà. Cambiamo argomento, dopo quello che si è tenuto nei giorni scorsi a Crotone, le imprenditrici iscritte alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia si sono incontrati nel capoluogo per un nuovo appuntamento di confronto sui temi cari all'imprenditoria al femminile. Sentiamo allora proprio la Presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile, Antonella Mancozzo. Abbiamo voluto iniziare la nostra attività di comitato proprio in questi incontri all'esterno, nelle varie realtà territoriali che compongono la Camera di Commercio di Catanzaro, di Crotone e Vibo. Sono delle tre realtà che sono molto vicine ma anche molto diverse e quindi noi abbiamo voluto creare questa occasione di incontro ma anche confronto, discutere per conoscere i punti di forza, i punti di debolezza ma anche qualche idea per poter programmare una strategia globale che sia condivisa da tutti, che sia vincente e che diventi un punto di riferimento per quanti pubblici e privati sono chiamati ad operare delle scelte fondamentali sia per quanto riguarda l'economia che anche la politica del territorio. Da ciò che sta emergendo, da questi incontri che hanno portato dei grandi risultati come avevamo sperato, stanno nascendo delle varie idee. Tra la più importante, che mi pregio già di spoilerare, è quella della nascita di un portale, la nascita di un punto di riferimento che sia anche fisico oltre che multimediale per essere di sostegno alle donne che vogliono avviare anche un'attività economica. Quindi dalle più semplici pratiche burocratiche alla conoscenza dei finanziamenti ai quali possono accedere perché negli ultimi anni i fondi e gli aiuti destinati all'imprenditorialità femminile hanno avuto un forte incremento. Quindi è giusto anche che molte donne ne vengono a conoscenza. Presentato alla Campus Universitario Salvatore Tenuta di Catanzaro, uno studio pioneristico relativo ad un inibitore di microRNA per la prima volta testato nell'uomo per il trattamento sperimentale dei tumori. Un obiettivo a cui magari era difficile credere e ci siamo riusciti. È un sogno nato nei nostri laboratori e oggi è divenuto realtà. Siamo riusciti come gruppo, sotto la guida del nostro, del professor Tassone, principal investigator dell'intero progetto, a trasferire un'idea, cioè quella di usare come bersaglio molecolare dei piccoli RNA ad uno studio clinico nell'uomo che si è completato con successo. Siamo contenti di aver concluso uno studio innovativo basato sul supporto AIRC che porta in clinica per la prima volta nel paziente neoplastico un inibitore di microRNA. Abbiamo lavorato per oltre 12 anni cercando di capire e di identificare i mirna disregolati. Ne abbiamo identificato uno in particolare e abbiamo lavorato su questo, fino a portare un farmaco per la prima volta in clinica. Questo è un risultato che noi consideriamo importante perché spinge la comunità scientifica internazionale a perseguire questo tipo di strada dimostrando che è possibile operare nuove terapie sulla base di tecnologia RNA e noi sappiamo che sono state sdoganate proprio con il Covid e questa è una di quelle terapie che ricade proprio nell'ambito dell'RNA therapeutics. Sicuramente ci rende orgogliosi, vuol dire che quello che abbiamo iniziato a fare tanti anni fa ha raccolto finalmente un risultato di livello internazionale. E chiudiamo quindi con i motori presentato a Mendicino la 42esima edizione della Coppa Sila. Oltre 100 i concorrenti sotto lo slogan il rombo della montagna. La Coppa Sila è pronta a scaldare i motori della sua 42esima edizione, quella che partirà il prossimo 30 luglio, conosciuta anche come Trofeo Domenico Scola. Sarà una competizione particolare per certi versi speciale se si considera che tra un anno ricorrerà il centenario dell'evento creato nel 1924 dal professore Giuseppe Catalani. Lo slogan dell'edizione 2023 è suggestivo, il rombo della montagna. L'intento degli organizzatori è quello di richiamare l'attenzione di turisti e appassionati sulle bellezze della Sila attraverso il rugito dei motori. Quando si vede una gara di questo genere in un territorio così affascinante, che cattura con tanta facilità, è molto facile innamorarsene. Per me questa scintilla è scoccata tanti tanti anni fa. Poi ho seguito talvolta anche a distanza per impegni concomitanti la Coppa Sila e quest'anno è soltanto un onore e un privilegio poterci tornare. Innanzitutto per il meraviglioso territorio e poi perché siamo in una regione ad altissima passione automobilistica e per le salite in particolare. Ricordiamo che da questa gara sono passati tutti quanti i più grandi campioni delle salite. Calabresi, che ce ne sono tantissimi, e non solo. Duessima edizione, 99esimo anno. Basterebbe questo per descrivere quello che è la Coppa Sila. Un evento che racchiude in sé turismo, ambiente, sport e cultura. Tra i boschi dell'Asila, meravigliosi, unici nel loro genere, il rombo delle auto. Il cuore sportivo della Calabria, non solo, ma di tutto il sud Italia, che partecipa a questo evento che è conosciuto anche a livello europeo. Per il momento è tutto. Noi ci fermiamo qui. Grazie, come sempre, per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi dell'altro Corriere TV. Noi ci fermiamo qui. Noi ci fermiamo qui.